Probabilmente un terremoto andrà a colpire la Spagna, il paese iberico per eccellenza, un terremoto che potrebbe avere una magnitudine di circa 7.0. Quando si verificherà, secondo gli esperti, alcuni dovrebbero verificarsi nei prossimi 50 anni, ne manca ancora molto tempo, precisamente alle isole Canarie. È una previsione che è stata compiuta di recente da parte di diversi studiosi che cresce l'ansia e cresce la preoccupazione nel famoso paese iberico per eccellenza. Ad oggi non c'è però alcuna metodologia scientifica con la quale si riescono a prevedere i terremoti, però secondo qualche scienziato, qualche bontempone, ci sarebbe stata questa previsione che sarebbe stata compiuta di recente relativamente alle isole Canarie. Ovviamente bisogna essere incauti, bisogna utilizzare la massima cautela, non si può parlare così d'ombre di questi eventi sismici, dicendo ci sarà il terremoto di 7.0. Quindi bisogna dare molto cauti. Io faccio questo video soltanto per informarvi di questa novità, di questa situazione qua, che potrebbe eventualmente verificarsi, ma vi ricordo che i terremoti, come già ho detto poc'anzi, non si possono andare a prevedere. Io non posso prevedere il terremoto quando ci sarà e se ci sarà. Poi soprattutto in altri paesi che non siamo in Italia, va bene? I terremoti, infatti, vi ricordo che non sono prevedibili. Non date letta a quelli che vi dicono ci darà tra 1 o 2 anni, anche in questo caso. Vi sento di dire, prendete con le pizze ciò che avete ascoltato, perché potrebbe essere il numero. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano e commentate. Ciao!